Ciao e benvenuti nella prima mini guida dedicata al benessere della casa. Queste mini guide sono dei brevi video con consigli pratici da applicare anche ogni giorno e con in allegato un pdf informativo. Oggi parleremo di decluttering, quindi come riuscire a ripulire la nostra abitazione di tutti quegli eccessi di oggetti ma anche di veri e propri rifiuti che spesso tendiamo ad accumulare per distrazione, mancanza di tempo o forse anche per qualche significato simbolico ed emotivo molto più profondo. Vediamo quindi come procedere. Clutter, infatti dall'inglese significa ammasso, accumulo, insomma tutto quell'insieme di oggetti che magari teniamo nelle nostre case e di fatto non facciamo altro che spolverare e li teniamo lì per abitudine, perché ci dispiace buttarli via, perché non abbiamo tempo di riordinare. Di decluttering si è sentito parlare soprattutto negli ultimi anni anche grazie a tutta la divulgazione fatta da Mari Kondo, la coach giapponese specializzata in organizzazioni di interni che aveva sviluppato appunto questo metodo chiamato KonMari nel quale parliamo di un decluttering quasi estremo in quanto è stato pensato proprio per le abitazioni dalle metrature estremamente ridotte come sono comuni nelle grandi metropoli giapponesi, comunque nelle grandi metropoli in generale. quindi il decluttering dobbiamo dire che è un tema principalmente moderno infatti prima del XIX secolo o dell'inizio del XX secolo raramente noi tenevamo in casa oggetti che non ci servissero quotidianamente e questo è dato dall'idea del possesso come status symbol che fino al secondo dopoguerra era principalmente legato a certe fasce sociali ovvero quelle dei nobili, quelle dell'alta borghesia che utilizzavano proprio l'ostentazione come simbolo del potere di acquisto e quindi del proprio potere economico e politico. Se parliamo dell'Italia possiamo proprio notare come prima della metà del XX secolo parlo la maggior parte degli oggetti presenti nelle nostre case e parlo degli oggetti funzionali quindi di utensili, strumenti di abbigliamento ma anche i mobili che servivano per tutta la famiglia e venivano utilizzati invece quotidianamente e a partire dalla metà del XX secolo la situazione è cresciuta si è modificata soprattutto a partire dall'arrivo negli anni Ottanta delle tv commerciali che quindi hanno spinto all'acquisto spesso anche compulsivo di cose in quella situazione che è sempre più estremizzata anche nella società odierna dell'acquisto come compensazione di stati di disagio e quindi con il bisogno e la necessità inespressa o anche le paure inespresse che ci portano spesso fuori controllo nell'acquisto di cose che di fatto diventano a livello percettivo dei sostituti della soddisfazione che ci manca ovviamente non parlo di arrivare ai casi estremi quelli là di accumulo compulsivo patologico quindi di quelle persone che si trovano a vivere in vere e proprie discariche perché non riescono neppure a buttare via la spazzatura neppure a eliminare quello che è uno scarto vero e proprio ma se parliamo di decluttering in linea di massima stiamo parlando di situazioni più o meno contenute quindi possono essere anche delle situazioni di grosso di un grosso problema di clutter ma non ovviamente a livello patologico e soprattutto per tutte quelle situazioni quotidiane che ognuno può vivere a seconda della metratura della propria abitazione a seconda degli oggetti che sono già in suo possesso o che entrano in suo possesso il decluttering sempre più spesso va a braccetto con quelle che sono le discipline del benessere perché non è una tecnica di pulizia cioè non è un sistema di organizzazione degli spazi bensì è strettamente legato anche all'analisi del rapporto che noi instauriamo con determinati oggetti o in realtà anche con tutti gli oggetti in generale in quanto acquistare e ottenere determinati oggetti nelle nostre case esprime come dicevo prima delle necessità e soprattutto nel nostro caso quindi di una specie estremamente sociale noi avremo bisogno di molto più contatto umano ma sempre di più con l'isolamento dell'individuo quindi con la creazione di una società sempre più individualista le persone tendono a manifestare sempre di più dei caratteri compensativi proprio per riuscire a soddisfare dei bisogni non soddisfatti infatti spesso anche questi acquisti compulsivi sono dati dalla mancanza di affetto quindi alla ricerca di una compensazione di questa mancanza di affetto e con il costo dire gli oggetti che ci ricordano altre persone all'interno della nostra abitazione ci troviamo proprio a vivere questo tipo di relazione con l'oggetto in linea di massima all'interno delle nostre case possiamo trovare tre tipologie di oggetti i primi sono gli oggetti funzionali quelli che raramente diventano clutter gli oggetti funzionali sono gli elettrodomestici i vestiti e i mobili di base quindi tutte quelle cose che usiamo ogni giorno e ovviamente non parliamo di elettrodomestici che magari utilizziamo a Natale bensì quelli che si possono usare spesso più volte alla settimana e tutti questi oggetti di fatto non sono clutter perché sono degli oggetti che ci servono a semplificarci la vita quelli quindi che portano un pro e portano un effetto positivo e migliorativo sul nostro benessere quotidiano l'unico caso in cui questi oggetti diventano declutter è quando magari vediamo che non stanno funzionando più tanto bene vediamo magari l'offerta in qualche negozio decidiamo di comprarlo però continuando intanto ad usare quello che sta finendo la sua corsa quindi sta per rompersi perché ragione perché magari si diceva beh tiriamo avanti quell'altro lo teniamo da parte ovviamente questo se il primo oggetto non andrà mai a rompersi andrà a portarci alla situazione in cui abbiamo due oggetti dello stesso tipo di cui uno magari che rimarrà per mesi se non anni dentro un armadio dentro un cassetto e quello è il caso in cui dobbiamo scegliere cioè non possiamo continuare a tenere sia l'uno che l'altro soprattutto oggigiorno dovremmo avere sempre di più un approccio sostenibile al consumo e quindi le persone fortunatamente stanno iniziando a prendere l'abitudine anche di rivalutare la seconda mano quindi gli oggetti famosi oggetti ricondizionati però di contro non dobbiamo neppure cercare di utilizzare cose che potrebbero persino peggiorare anche la qualità dell'aria all'interno di un ambiente pensiamo magari un motore che sbrucia ma comunque funziona ancora e favorire sempre degli oggetti manutentati quindi di cui ci si ci si preste sicuri che funzionano evitando proprio i doppioni quindi ricordarsi che se bisogna cambiarlo o lo si cambia nel momento in cui si decide o è meglio aspettare che si rompa definitivamente una seconda tipologia di oggetti invece che troviamo in casa sono quelli con il famoso valore affettivo quindi gli oggetti con il valore affettivo sono tutti quelli che magari ci ricordano qualcuno qualche situazione passata e in questo caso è importantissimo dividere gli oggetti che stimolano in noi una sensazione positiva da quelli che fanno immergere o stimolano delle sensazioni non piacevoli come ad esempio se sono oggetti legati a delle persone che amavamo e che non ci sono più e quindi che costantemente osserviamo e ci ricordano quanto proviamo la mancanza quanto ci dispiace quanto siamo dispiaciuti per non star più insieme a quella persona questo secondo tipo di oggetti quindi quegli oggetti che teniamo dopo un lutto sono spesso legati alla cosiddetta mancata elaborazione del lutto quindi parliamo di persone che non sono riuscite ad accettare completamente la dipartita della persona cara e quindi cercano di riempire questo vuoto questo passaggio mancato dell'accettazione attraverso il costante ricordo il costante far tornare in un certo senso la persona in vita quindi ricordarsi di lei attraverso gli oggetti che che vengono custoditi tuttavia questo è un quasi peggiorativo di uno stato di già lutto non elaborato correttamente infatti sarà come vivere costantemente questo lutto e il consiglio è quindi magari di fotografare e poi vendere tali oggetti a meno che non siano oggetti di un altissimo valore che in futuro potrebbero servire in caso di problemi economici e quindi potrebbero essere venduti questo perché ragione perché a noi è importante per noi è importante progredire cambiare andare avanti e quindi utilizzare degli oggetti che impegnino il nostro tempo impegnino il nostro spazio oltre che profondamente il nostro ambito emotivo è una situazione da evitare all'interno di una casa infatti quello che consiglio io alle persone a cui tengono moltissimo insomma a custodire determinati oggetti di crearsi proprio questo un piccolo album fotografico magari dove sono presenti anche le foto di tali oggetti che comunque rimarranno nella nostra memoria e non spariranno per sempre infatti è fondamentale che si proceda sempre all'interno della vita quindi non bisogna mai rivangare costantemente il passato infatti la vita è percepita e noi la viviamo come lineare va verso un futuro invece avere questo tipologia di oggetti ci proietta costantemente nel passato e può essere persino causa di alcuni stati patologici come la depressione al contrario però se questi oggetti di qualcuno ci ricordano una situazione molto bella che fa come dice Marie Kondo fa brillare di gioia sparkle joy e la nostra vita quello è un oggetto che può essere volentieri tenuto dentro l'abitazione non deve esserci una collezione quindi non devono essere tantissimi però quelli più importanti possono essere custoditi all'interno della casa e infatti dobbiamo sempre ricordarci che qualsiasi oggetto otteniamo è qualcosa che ci occuperà del tempo perché dobbiamo riordinare spolverare e tutto questo tempo che noi impieghiamo a dedicare a un oggetto legato al nostro passato lo dedicheremo a progettare o attuare il nostro futuro e quindi è interessante riuscire a capire bene qual è la giusta percentuale di oggetti o di cose da tenere all'interno delle abitazioni perché all'interno della casa noi non dobbiamo creare una proiezione di qualcosa che ci manca ma dobbiamo proprio cercare di creare spazio cercare di accogliere tutte le potenzialità future che ci si presenteranno un decluttering può essere sconsigliato magari ad esempio alle persone in età molto avanzata perché ormai hanno fatto il loro percorso di vita hanno fatto le loro scelte sono arrivati al periodo del riposo e quindi per loro non ci sarà questa urgente necessità come ci può essere per i giovani ma anche per gli adulti di accogliere nuove potenzialità quindi nuove vie nuovi percorsi e e quindi anche quando parliamo di decluttering bisogna magari incaponirci verso i nostri parenti più anziani se tengono troppo dentro casa perché in quel caso proprio sono delle situazioni accettabili ovviamente nel limite del non accumulo compulsivo infine la terza tipologia di oggetti che troviamo in casa sono proprio gli oggetti superflui gli oggetti superflui possono essere cose che abbiamo comprato perché li abbiamo visti in offerta ci piacevano hanno cose consigliate da qualcuno magari li abbiamo usati una volta e dopo non li abbiamo più utilizzati visto che potevamo fare la stessa cosa con un altro oggetto già in nostro possesso più comodo più resistente o quant'altro e proprio in mezzo a questi accumuli di oggetti vi è la situazione in cui è più probabile trovare una sovrabbondanza di cose quindi in cui trovare degli accumuli su cui dover agire una cosa di base che ricordo sempre anche quando parlo di domoteorica è l'importanza dell'acquisto consapevole quindi di non comprare per comprare non comprare come dicevo prima per soddisfare qualche altro tipo di necessità ma proprio sempre nell'ottica del fare la scelta più funzionale alla nostra vita infatti bisognerebbe sempre più avvicinarsi all'ottica di affittare determinati oggetti perché è un oggetto che noi usiamo una volta al mese o anche meno di una volta al mese non ha assolutamente senso essere acquistato a meno che non sia un oggetto che ha una durata infinita ma ormai come sappiamo bene sono sempre di meno e che quindi uno dice acquisto come un investimento invece noi tendiamo sempre soprattutto chi vive nelle grandi città a prendere sempre più elettrodomestici per rendere più rapida la nostra giornata lo svolgimento dei compiti quotidiani a comprare abbigliamento anche se abbiamo già vestiti perché vogliamo qualcosa di nuovo e tutto questo cosa succede per una necessità temporanea e vanno a diventare declutter vanno a diventare degli accumuli oltre che in moltissimi casi anche dei rifiuti perché se non si è già nell'ottica di un di una gestione consapevole e una gestione sostenibile dei prodotti che utilizziamo si finirà insomma per creare continuamente nuovi rifiuti quindi cosa dobbiamo pensare dobbiamo sempre pensare di non portare oggetti inutili a casa ma di riuscire pian piano inoltre a svuotare proprio la nostra stessa casa di tutti questi oggetti possono essere rivenduti ci sono sempre più app per farlo possono essere dati in carità possono essere regalati a degli amici che magari ne hanno bisogno in quel momento soprattutto se stanno ad esempio traslocando e quindi vediamo quello che possiamo fare per liberarci del clutter per riconoscere per liberarci del clutter della nostra abitazione in allegato al video trovate la mini guida dedicata proprio a un decluttering di base per poter migliorare il respiro della casa stessa infatti il problema principale del clutter oltre a quello di elaborazione volontaria o involontaria di sensazioni negative e quindi di ricordi non positivi è anche il fatto il problema è anche il fatto che il nostro cervello analizza costantemente tutto lo spazio che abbiamo attorno e anche se non ce ne rendiamo conto qualsiasi cosa entri nel nostro campo visivo viene decodificata e le aree preposte del cervello vengono sovrastimolate a causa proprio dell'accumulo degli oggetti e anche della confusione infatti si può arrivare fino al punto di un'alta produzione di cortisolo quindi quell'ormone dello stress che viene generato in situazioni in cui noi ci sentiamo in pericolo noi ci sentiamo a disagio e cosa succede se dentro la nostra casa abbiamo questa sensazione cioè anche se siamo in un luogo sicuro comunque una parte inconscia la parte innata di noi sente che qualcosa non è adeguato che qualcosa non è come dovrebbe essere e quindi va in un iper lavoro e immaginiamoci quindi quanto potrebbe essere disagevole vivere costantemente in questa situazione proprio per questa produzione ormonale che è fisiologica che è spontanea da parte del nostro corpo perché quindi noi ci troviamo ad accumulare oggetti come dicevo molte volte è una questione di compensazione infatti noi culturalmente cerchiamo di acquistare degli oggetti per provare una sensazione piacevole di avere qualcosa di nuovo e questo produce in noi degli ormoni come le endorfine che ci fanno stare bene tuttavia di contro tutti questi oggetti va a produrre l'effetto del cortisolo e se stiamo subito bene al momento dell'acquisto dopo superato l'entusiasmo iniziale iniziamo a stare peggio di prima e l'ottica di acquisto consapevole porta anche la persona ad avere un maggior controllo di questa dinamica e di concentrarsi esclusivamente sulle reali necessità bisogna dire che un caso particolare da tenere in considerazione è quello del collezionismo infatti è un tipo di analismo particolare all'interno del decluttering perché da un lato può avere anche un lavoro prettamente economico quindi essere una fonte di investimento e in quel caso viene giustificato come gli oggetti d'arte quindi o di particolare antiquariato che quindi sono degli oggetti che vengono custoditi vengono tenuti proprio a causa del loro valore economico però di contro esiste anche un collezionismo che non ha un valore economico come ad esempio bottiglie di birra peluche o altro e questo dovrebbe far pensare la persona a qual è il bisogno mancato qual è il bisogno che sta cercando di compensare proprio attraverso l'utilizzo di questi oggetti attraverso la custodia il possesso di questi oggetti infatti se non si parla di oggetti che come gli oggetti d'arte aumentano il valore nel tempo pensiamo si sa che certi giocattoli riescono a raggiungere quotazioni di valore molto alto molto spesso anche costruire dei giocattoli può essere manifestazione di una mancanza trovata durante l'infanzia oppure l'uso di collezione di oggetti di certi tipi di animale o con colori particolari possono magari dare dare l'input ad un ragionamento di una particolare caratteristica che tale animale o tale colore rappresenta e che è stata percepita come una mancanza nella vita della persona infatti quando noi stessi abbiamo delle collezioni a casa quello che dobbiamo fare è domandarci perché stiamo ottenendo questi oggetti che cosa rappresentano questi oggetti cosa possiamo fare per poter cambiare la vita e ottenere quello che attualmente vediamo come un'illusione perché continuiamo ad alimentare una certa mancanza ad esempio osservando in casa molto spesso è anche importante capire quali degli oggetti sono degli oggetti culturali quindi oggetti tipici di una certa zona e invece sono degli oggetti specifici che una persona ha scelto per la propria casa e che si trovano più difficilmente all'interno di altre abitazioni questo infatti può essere un punto proprio di attenzione per capire che cosa questi oggetti rappresentano che tipo di emozione o altro può essere legata a questi oggetti e quindi può essere anche un aiuto imparare a rimuoverli dalla nostra vita dalla nostra costante memento quindi dalla costante osservazione di tale oggetto magari in favore anche di altri tipi di analisi personale o con l'aiuto di personale di professionisti adeguati e per poter insomma migliorare completamente la nostra sensazione di benessere per poterci aprire più correttamente e funzionalmente al futuro l'approccio al decluttering infatti non può essere un ok adesso vado a casa svolto totale buttiamo via tutto iniziamo la vita da zero per alcune persone può funzionare ci sono delle persone che si evolvono proprio attraverso cambiamenti estremamente drastici quindi potrebbe essere un'opzione in generale per chiunque qualsiasi modifica dalla più microscopica alla macroscopica all'interno del proprio ambiente domestico può essere un microtrauma e quindi non possiamo agire così bruscamente perché non andremo a rispettare quelle che sono le nostre necessità profonde quindi è consigliato lavorare sempre un po' alla volta e solitamente quello che è consigliato è lavorare per funzione o lavorare per stanza quindi ad esempio un lavoro per funzione significa dedicare magari una volta alla settimana o una volta al mese alla pulizia di determinati oggetti quindi tutti ad esempio i vestiti tutti i cd tutti i libri mentre facendo quello per stanza uno fa la stessa cosa chiudendosi in una stanza e ripulendo completamente questa stanza questo permette di avere un lavoro più lineare in modo tale da non disperdersi prima da una parte poi dall'altra aspetta c'è anche questo vado di là e permette di dare una cioè di velocizzare anche proprio il lavoro e di compartimentarlo quindi di renderlo più semplice perché si sa che finché non è finita quella determinata stanza o quella determinata tipologia di oggetti non si può passare a lavorare su altri ambienti il mio consiglio di solito è quello di partire dalla camera da letto la camera da letto infatti dovrebbe essere sempre il luogo più tranquillo ordinato perché deve trasmettere una sensazione di benessere visto che è la nostra tana il nostro luogo di riposo e se vogliamo fare decluttering in una stanza cerchiamo sempre di partire da quella poi va bene passare a stanze altre stanze più utilizzate e se abbiamo anche un magazzino consiglio sempre il magazzino di farlo per ultimo perché uno probabilmente ci porterà via tantissimo tempo e soprattutto se abbiamo avuto delle incertezze nello svuotare casa abbiamo messo gli oggetti nel magazzino magari con un secondo una seconda passata e potremmo eliminare anche questi ultimi oggetti lo stesso vale anche per la soffitta nel senso quei luoghi dove tendiamo o il garage dove i luoghi tendiamo a mettere gli oggetti che non utilizziamo e che magari passeranno tutto il resto della loro esistenza nella stessa posizione a prendere polvere poi è importantissimo quando si è lavorato in modo quasi marziale direi alla cernita è importante a fine lavoro non interrogarsi o il pentirsi di aver buttato via una cosa di aver ceduto un'altra io consiglio sempre due cose ad esempio se siamo veramente indecisi se eliminare o meno un oggetto soprattutto se è un oggetto affettivo se è un oggetto acquistato superfluo eliminiamolo quello è più sicuro se abbiamo un dubbio è sempre meglio eliminarlo se è un oggetto affettivo ad esempio da un luogo in vista mettiamolo temporaneamente appunto in magazzino in soffitta e dopo un mese proviamo a rivalutare la cosa e decidere cosa farne comunque ricordatevi guardate anche sulla guida ci sono degli schemi applicativi se ispira sensazioni negative è sempre meglio eliminarlo una cosa come accennavo prima che si può fare quindi di fotografare l'oggetto mettere via la foto quindi di avere imperitura memoria di tale oggetto ma senza dovergli dedicare tempo dovendogli dedicare esclusivamente la memoria tuttavia questa cosa potrebbe essere valutata anche come un approccio non corretto perché comunque si va a riportare alla memoria delle sensazioni che a volte dovremmo anche totalmente eliminare dalla nostra vita però spesso questo è un metodo che lavora bene soprattutto su chi è più reticente a eliminare gli oggetti perché permette insomma di fare quel passo in più che è il distacco emotivo che probabilmente con l'eliminazione basta non verrebbe mai fatta dalla persona quando noi siamo riusciti quindi man mano anziché eliminiamo questi oggetti stiamo trasformando la casa in un ambiente sano e armonico che suscita in noi delle sensazioni positive e anche creative perché ciò che deve trasmetterci nella nostra casa è proprio l'idea di benessere abbondanza l'abbondanza non è l'accumulo di oggetti l'accumulo di oggetti è un'illusione di abbondanza soprattutto come dicevo se questi oggetti non hanno nessun valore economico che potrebbe salvarci magari in un momento di difficoltà finanziaria l'abbondanza è il nostro senso di benessere è il nostro senso di crescita è il senso di cambiamento in un sé migliore in un io migliore e quindi se seguite i consigli questi consigli i consigli che trovate anche nella guida potete a vostra volta crearvi dei sistemi crearvi degli schemi crearvi delle delle linee applicative a seconda di come vi sentite più a vostro agio di com'è più funzionale per la vostra casa perché una casa piccola avrà delle necessità una casa molto grande avrà tutt'altro tipo di necessità ma soprattutto utilizziamo il decluttering proprio come una vera esperienza di mindfulness di consapevolezza cioè io essendo anche attivista in ambito ambientalista insisto molto sulla necessità di evitare il consumo eccessivo e fortunatamente vi è sempre più consapevolezza da questo punto di vista tra le persone ma la sfortuna che abbiamo è che le società commerciali hanno basato l'idea di benessere proprio su un ideale di consumo e adesso ci troviamo in una situazione praticamente insostenibili e potremmo utilizzare il decluttering quindi ad esempio anche gli swap party con le situazioni in cui ti puoi scambiare gli oggetti per creare nuove relazioni con gli altri perché gruppi di persone creare i gruppi di vicinato in cui ci si scambia gli oggetti è un sistema estremamente funzionale per il contenimento dei costi ma anche per il benessere personale perché ripeto siamo delle creature sociali anche se ce ne stiamo dimenticando tante necessità che compensiamo con gli acquisti di oggetti diventeranno un arricchimento diretto diventeranno un arricchimento dato dai contatti umani e da tutte le sensazioni positive che delle relazioni non tossiche quindi non basate sull'individualismo e sul consumo ma sul collaborazione e la condivisione e l'empatia porteranno possono portare la vita a un netto miglioramento cioè la nostra sensazione di miglioramento e di benessere crescerà sempre di più e più riusciamo a creare un ambiente armonico che quindi non ci stressa non va a sviluppare in noi una reazione di rifiuto di pericolo tanto più staremo meglio a 360 gradi quindi la nostra fisiologia stessa è una fisiologia da esseri sociali e quindi il decluttering alcune tecniche soprattutto di decluttering quelle che vedono proprio la rimessa nel mercato degli oggetti che stiamo eliminando sono necessarie sono fondamentali anche per poter aumentare le relazioni interpersonali e a nostra volta quindi andare a soddisfare finalmente le nostre necessità e non con degli oggetti non con dei pagliattivi come ultimo consiglio quindi soprattutto a chi è genitore come me do sempre quello di educare anche i bambini a questo tipo di approccio agli oggetti e uno per toglierli da quel senso di competizione che spesso hanno i bambini nel senso il mio è mio non è di tutti ma soprattutto in questi modi i bambini saranno portati a ricercare il contatto umano a ricercare una relazione sana piuttosto che arroccarsi su determinati oggetti e sul possesso di determinate cose infatti molto spesso noi genitori per lavoro comunque per vincoli anche legati alle situazioni sociali in cui siamo inseriti siamo obbligati a stare poco con i figli e per compensare questa mancanza magari cerchiamo di prendere degli oggetti per farli felici ma questo è proprio il seme di questo comportamento erroneo di legame con gli oggetti questo comportamento sbagliato di acquisto fatto per stare bene e quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che per stare bene abbiamo bisogno di essere felici di imparare conoscere nuove cose conoscere nuove persone confrontarci scoprire ed evolverci e questa è la natura stessa del sapiens è quello che ci ha portato ad essere l'unica specie quasi a esplorare l'intero pianeta quindi proprio è importante che anche noi genitori siamo più consapevoli nella nostra relazione con gli oggetti nella nostra relazione con il nostro spazio abitato per essere dei giusti esempi per i nostri figli quindi spero che potrete utilizzare questi consigli e la mia guida come partenza per un'autoanalisi e per un'analisi del vostro spazio abitato e auguro a tutti un buon ciclo di trasformazione e soprattutto in quella che è l'ottica positiva di un miglioramento della nostra vita e quella di ogni creatura su questo pianeta perché noi siamo un sistema e un sistema per essere funzionale deve essere un sistema basato sul benessere di tutti